A questo stato ha fatto i suoi percorsi, ha aperto un suo padiglione nel cortile dell'Università Ca' Foscari a Venezia durante la Biennale, ha partecipato ad Arco a Madrid ed ha aperto anche una sua ambasciata al Museo Maxi di Roma. Adesso finalmente giunge all'ONU, prima ci siamo rivolti alle persone comuni, alle persone della strada, adesso il messaggio viene rivolto ai capi di Stato, agli Stati membri delle Nazioni Unite perché anche loro facciano qualcosa per questo grande problema.